Benvenuti sul nostro canale. Oggi affrontiamo un argomento che sta infiammando il dibattito pubblico in Italia, un'indagine che coinvolge un fedelissimo di Giorgia Meloni e che getta ombre pesanti sulla politica pugliese. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa storia sconvolgente. Come può una figura politica di spicco essere coinvolta in una cosa così grave? Quali saranno le conseguenze per il futuro politico della regione e del paese? Scopriamolo insieme! Prima di entrare nei dettagli, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti su questo e altri argomenti di grande rilevanza. E ora, addentriamoci nella questione. L'indagine che sta scuotendo la Puglia ha messo sotto i riflettori un fedelissimo di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Secondo le accuse, ci sarebbero stati tentativi di compravendita di voti durante le recenti elezioni regionali, un'accusa che mina profondamente la fiducia nella trasparenza del processo democratico. Ma chi è questa figura chiave? E quali sono le prove che hanno portato a questa indagine? La figura coinvolta è Nome, noto per la sua lealtà e il suo ruolo influente all'interno del partito. Le indagini hanno rivelato presunti contatti con esponenti locali, promesse di favori e addirittura compensi in denaro in cambio di voti. Gli inquirenti hanno raccolto una serie di intercettazioni telefoniche e documenti che sembrano confermare questi sospetti. Le prove sono abbastanza solide da aver portato a diverse perquisizioni e al sequestro di materiali che potrebbero fornire ulteriori dettagli sull'organizzazione di questa presunta rete di corruzione. Ora, mi rivolgo a voi, cosa ne pensate di queste accuse? Credete che ci sia un problema sistemico di corruzione nella politica italiana, o si tratta di casi isolati? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, la vostra opinione è fondamentale per noi. Se trovate importanti i nostri contenuti e volete sostenere la verità che in tv non dicono, mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale. Con il vostro supporto, possiamo continuare a portare alla luce storie di interesse pubblico. L'indagine è ancora in corso e ci sono molti punti interrogativi su come si evolverà la situazione. Continueremo a seguire la vicenda e vi terremo aggiornati su ogni sviluppo.